Ben ritrovati amici Biancorosso, l'appuntamento con Monza Channel, la premiamo subito con gli elizzi della vittoria di mercoledì in casa in rimonta contro il Foligno, pesantissima in chiave salvezza, vediamo. Va la gussa, attenzione a questo tiro, il primo della partita di Lewandowski, il fisco è l'arbitro, la rincorsa di Coresi che batte centrale, Castelli purtroppo si era tuffato alla sua destra e Foligno che passa in vantaggio all'ottavo minuto del primo tempo, grazie al rigore trasformato da Coresi. Lewandowski, la sventagliata, vediamo se ci arriva, ci arriva Paolino, bravo, il cross di Campinotti è buono, attenzione, stava per arrivarci Jacopino. Degli uomini di Pagliari, in trasferta, ma intanto seguiamo questa percussione di Zenoni che si libera al tiro, la sua conclusione di sinistro, morbido Rizzo per Guidone, lo stop di Petto, il controllo, la palla di nuovo e mezzo per Rizzo che si mangia il gol del 2 a 0. Andiamo, la botta di Zenoni al diciannovesimo. Colacone chiede il rispetto della distanza da parte della barriera, l'arbitro fischia va Jacopino, palla morbida dentro, ancora per Tiboni, il cross in mezzo, Campinotti può tirare, la conclusione splendida di Campinotti è la grande parata di Kovacic, il Monza è vivo, il Monza merita il pari. Palla per Lewandowski, buono il suo tocco per Colacone, anticipato di pugno, c'è il tocco di Zullo e c'è il gol del Monza, ha segnato Walter Zullo, si libera con una bella Veronica del pressing avversario, la mette per Colacone, buona la sua palla, il Cobra si gira, buono il tocco di Romano per Colacone, riesce a girarsi, a lavorare un buon pallone, si infila in profondità Tiboni, sfida in velocità Barbaglia, arriva per primo sulla sfera, bravo Tiboni, lavora bene questo pallone, il suo cross, svetta Galupo, ma la palla ancora buona per il Monza, si coordina Lewandowski, può innescarsi il contropiede degli Umbri con Coresi che serve Caturano, il tiro di Caturano, fulcro della manovra Umbra, attenzione Coresi, ha un gran destro, prova il tocco dentro per Caturano, la conclusione di Caturano e c'è l'ennesimo miracolo di Castelli di questa stagione. Troviamo questa manovra, sulla destra c'è Zenoni, da Zenoni il capitano, il cambio gioco per Campinotti in qualche modo, riesce a intervenire Rizzo, già due tiri e due calci d'angoli guadagnati, deve continuare così la squadra di Motta, bisogna andare a prendere questa vittoria. Guadagna anche la rimessa laterale il Monza. Attacca con... Attenzione, colpo di testa di Tiboni! Che colpo di testa di Tiboni! Che colpo di testa di Tiboni! Uno splendido cross dalla destra! Il colpo di tacco intelligente di Coresi, la palla di nuovo dentro. Che rischio ragazzi, però in qualche modo il Monza è libera e può ripartire. La palla per Zullo che è stato liberato da Colacone, ancora buona. Tiboni si libera, il tiro ribattuto. e c'è il cartellino rosso ai danni di Gallupo. Ancora Lewandowski, la sua traiettoria! Il colpo di testa di Cattaneo che ha lambito il palo. Buona questa giocata di Romano. Porche sarà il contropiede del Monza. Andiamo ragazzi, dobbiamo chiuderla con Colacone che è parata! Kovacic! Palla lontana, prova a lottare Colacone, il Cobra che la tiene viva! E può imbastire questo contropiede! La palla per il capitano, metti la capitano! Nooo! Ora c'è Zullo che sveta, ma arrivano in due e alla meglio del Foligno, alla meglio Tattini su Lewandowski. Può condurre questa azione, il tiro di Tattini. Forse il fallo di Barbaglia ma la palla ancora buona per Tiboni. Lotta Tiboni, resta a terra l'avversario. Il tiro di Tiboni dalla distanza. Lascia Jacopino per Romano. Romano può caricare il tiro. Restituisce il capitano. Il suo cross morbido in mezzo. Su secondo palla, c'è Tiboni! Il colpo di tacco buono di Lewandowski per Campinotti. Intelligente il suo servizio per Torregrossa. Peccato. Foligno avanti alla disperata. Attenzione! Il colpo per Ferrari. Bene, la palla di Jacopino. Lewandowski carica a sinistro! Il Monza è riuscito a realizzarla. Il Como ha solo i due punti e adesso appuntamento domenica qui a Brianteo per un'altra gara da vincere a tutti i costi contro il Pisa. Da Maxal è tutto. Un saluto ai tifosi biancorossi. Risultati dell'ultima giornata di campionato. Carpi, Benevento 1-1. Lumezzale, Avellino 2-1. Il Monza, appunto, ha battuto il Foligno 2-1. Paviacomo 2-1. Sorrento, Foggia 2-0. Spalpro, Vercelli 1-1. Taranto, Trizium 2-0. Ternana, Reggiana 2-0. Via Reggio, Pisa 2-0. In virtù di questi risultati, vediamo anche la classifica. Terrana 63, promossa SRB, Carpi e Taranto 57, Provercelli 56, Sorrento 54, Benevento 53, Pisa e Lumezzane 42, Avellino 40, Reggiana 38, Foggia 37, Trizium 36, Como 34, Monza 33, Via Reggio 30, Pavia 29, Spal 28, Foligno 21, retrocesso e Lega Pro seconda divisione. Domenica a Monza affronterà a Brianteo il Pisa con ingresso a 1 euro per chi volesse andare a vedere la pietra in curva e a 2 invece per chi volesse andare in tribuna. A proposito di questo match, abbiamo ascoltato questo pomeriggio a Monzello. Campinotti, vediamo. Presentiamo una sfida molto importante in chiave salvezza per il Monza, domenica contro il Pisa. Sì, una sfida importante per noi. Veniamo da due risultati positivi e cercheremo sicuramente di fare anche questo terzo risultato che per noi è essenziale per fare la corsa salvezza. Che spinta va data? La vittoria rimonta contro il Foligno, soprattutto vedendo anche i risultati delle altre come Trizium e Como che sono state risucchiate poi nella corsa salvezza. Sicuramente ci dà una grande forza, nel senso anche perché comunque la partita è iniziata male, siamo andati in svantaggio, abbiamo avuto la forza di recuperare e il fatto che comunque anche le altre hanno perso, ci dà un grande stimolo per andare avanti. Le insidie del match contro il Pisa, che all'apparenza è tranquillo, non ha più nulla di chiedere a questo campionato, penserà alla finale di Coppa. Quali sono? Cosa temete nel Pisa? Cosa ha detto il mister in settimana? Sicuramente il Pisa è una squadra forte, dovremo affrontarlo con il massimo impegno e con grande cattiveria per portare a casa il risultato che per noi è importantissimo. Qual è la condizione del gruppo dal punto di vista atletico ma anche mentale, visto poi i risultati che sono arrivati, molto pesanti? La condizione è ottima, il morale è altissimo perché comunque abbiamo fatto due risultati positivi in due gare molto difficili e andiamo avanti e speriamo di vincere anche domenica. Dopo Pisa poi mancherà solo una partita, quella di Benevento in trasferta, quanto crede il gruppo alla salvezza diretta senza play-out? Il gruppo è unito e ci crede al 100%, ce lo siamo detti anche tra noi. Quello che c'è da fare è da fare i fatti, di fare il risultato e niente, andiamo avanti così. Sarà il fischietto dell'arbitro Daniele Chiffi della sezione AIA di Padova a dirigere il prossimo match interno di Biancorossi, domenica pomeriggio ore 15, il calcio di inizio a Brianteo contro Pisa. Chiffi sarà coadiuvato da Emiliano Luca Albani di Rimini e Angelo Bonafede di Bologna. Note dal giudice sportivo perché ha squalificato per un turno il difensore del Pisa Gabriel Raimondi in seguito all'espulsione rimediata mercoledì nel derby contro il Viareggio e non sarà a disposizione di mister Alessandro Pane per la trasferta dei Neroazzurri in terra Brianzola. Chiudiamo con il programma del prossimo turno sempre domenica ore 15, Carpi Foligno, Lumezzane Como, Monza Pisa, Pavia Trizium, Sorrento Provercelli, Spal Avellino, Taranto Reggiana, Ternana, Foggia, infine Viareggio contro Benevento. È tutto per questa sezione, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per averci seguito, arrivederci.